www.feyyaz.tv ... ... ... ... Mungihubu chigitza Apo la tura Iteriki ugani gimana Mungihubu chigitza Ama Ikegami nino aga kizza kuriose Nacho kizza chere Kadokunu gani gimana Paha nini ngere mungihubu chigitza Habikiwe bose Kandi Hakatuwele ka inzila Mungihubu Ishoora kushikana Mungihubu chigitza Imbere yuko Mungihubu chigitza Imbere yuko mngerenzi Tutangura ichikwa chuyumusi Imbere yuko tukuingila mkigane Onyezi na hundila Tuvandle tusengi Uho raho itandela kizima We ushoora bose Utehim kamikaba waho Naliga komerizi na daunili habi chuba Njenewe umusaddiwa hawe Hawewe Imbere yungene Utehimu Per il tuo cuore come te dovete riuscire le령τιano e le fate va a riposare la pagine di Cristo Il tuo cuore come te dovete riuscire il tuo cuore a capire. Non mi vuoi essere che ti devono fare il tuo cuore, tu ne rischi e ti chiede. Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 edifici il profilo e avviso per il tuo progetto il tuo cammino, per il tuo massimo questo è questo fruito Vibili alla nostra fisica e fa un tambieno l'Italia è una persona che imparcia Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info mentre si tratta di tutti i Mani che lasciano sul mio nome ma allo spazio, potevo di telefono quando uscr получavano ascoltando si chiamano insieme ma non fatale e potevo tornare fino a mangiare se onesci al suo centro se arriva città casa tu personei ma prima visita il chione del rito ma non sono capace non sono più io so che l'gestione non si giova sono anche venite il chione e ho raggio ma revedita ma ora e volentieri che avvengare di schienze la mia ma Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 il suo amore ci sono le cose che gli amici e gli amici è un altro ma non è più che gli amici un amico non è il suo amico non è più che gli amici e gli amici, il suo amico è un amico, il suo amico è un amico che gli amici che perché il rio d'ordine, che il rio è un passaggio, che il rio d'ordine, è anche un passaggio di fuori. I ovunque sono spesso, che la rio d'ordine, che avrei dovuto, che avrei avuto un passaggio di questo qri, e mi è stato detto che il rio d'ordine, Non c'è ma bene ciò che non ciò che gli immagini La una sedia, giù non ciò che gli immagini Sono due esperti E la cosa che gli immagini Oggi è di farlo Una scoperta di dirra Ma non ciò che gli immagini Ma ciò che gli immagini يتviare la qua ma è che i diritti che il Gesù Cristo, non a capire che il Gesù Cristo della sua vita quindi non è proprio il sogazio, non è proprio quello che il Gesù Cristo l'Italia, ma ci pare che il Gesù Cristo è il suo錢zo di ciò che c'è nella nostra vita e sarà un'oggiata che ci sono ancora una vita il Gesù dice che gli Gesù Cristo è il suo'amore e lo che non ha avuto Icchi, ikarabumhelezi, chichi viamuri Yesu Cristo Mumuhelezi mkuru Vika shukurakwa, kio, kwe mekwa Relu, dufashe Kano gazemga kaboli Zimgagino sezra, mgiakira Kukukumbira, imana Kukukumbira, imana Adiposibose, harabumbi imana Abaharuga mi sezana, mishasha Abaharimu giakira Vyabari mbonga yuko Iseza, mishasha, giza Kukuhishukwa Mazemi maze kukuhishukwa Ili tutu Hamwe, no kutuva imana Jose, jago, mbakwilu Kano mboko, kye Abisira, mungu, joku, mbili Sibobo, jeneba, tebeza, kubanda Inaveni, mwani imana Abongo, yeso, labugango Abizira, Yesu, Christo, kusa Nibobo, nipopoko, mgi imana Nibobo, abana, limana Abana, abu, muncho Watagungiza, huko Wali muncho wa Christo, tanga Ili, nipyotu wona Usomya, hanomu Nipopoko, mwani, mbika, chini, mpogashitana Mbika, chini, chini Aba hene sijbay bah üzere Hali, hamwe kuudume Hene, nipopura Nipopura, nipopura, yesu, Christo Imi mazi Djiya hula mitangwa Ahi idyagetwe dhima Djiya hula E' un po' di più di più di più di più. Ho detto, tutti i nostri amici, non sono molto bene, ma sono venute con il nostro amico. Ecco tutto il nostro amico, il nostro amico, il nostro amico, il nostro amico, è venuto come Gesù Cristo. Questo è il nostro amico, ed è il nostro amico, che si avessero, Allora, un angelo, Food Island, che mandano conłemci i suoi amici. Non mi face dei suoi amici. Non mi face mai. Non mi face mai. Non mi face mai. Mi face mai. Ma per ora, mi face mai comune a mio allenamento. Gesù kuri, qua undagoloka Umonu, atige za konichaha Umiwe muherezi, atagilichaha Unisezirano lishashi Haligiamuwekulayo, igiche chumunani, kubromba, chumunaga, tatu Kukwagugati sezirano lishashi Leligiammeria lishashi Haligiamuwekulayo, kibakigira, kikamangane Haligiamuwekulayo, kibakigira, kikamangane Haligiamuwekulayo, kibakigira, kikamangane Kikyamuwekulayo, kikamangane Kikyamuwekulayo, kikamangane E quindi come mezzu Giooze, diarafugno a fugno eme Mazze di riba gira nwa Imi mazze Nini miyose viakoba Mbelevi, nadi nisira yungu Yunguwekulayo, kikirangwa Kukirangwa vizera Yesu kristu Vobo, bahidu ki Vyari nishashi atungi Sezano nishashi Mazze avalibo Mbelevi, nadi nishashi Vyari 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 ective Vyari 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 Vyaribu Vyari 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 Mugenez, nage ufise chokuguma mpieti akera Nage ufise chokuguma mpieti akera Nage ufise chokuguma mpieti akera Mugenez, Yesu, ya zanye uku golgoka kwisi Ya muzemi uku, ya je kurondela, i chari chara zimie Yohana, ibiche chachumi na kavili kumidahakona chani Kuko Yesu, kum command wabiro natatia buzengu Nage miisi kimucho, kugirangu hapaginze ila bose nivaze wa kumumiza Yohana, Niger chachagni, tum39 wadumi, nakatanda, tukukubukundi mana ya kumza manibiz Nikomkua, tunitangunga 나wayi mtinege Kugirangu mhiize ila uwezenhanza hapurugi Ali, kaza habugi kwa mdashiyo whimu msiau hamali mimi kristo Yesu na hamazaluzoba tsinda la baroma la baroma tenga gente una famiglia la barba però la cosa inizia insieme come Gesù Cristo e che mi conta di essere iniziale perchè erano facilemente e di essere a tutti i figari con Gesù Cristo che io te amende quanti sono sono inizio e allora finisce tutti i figari come mi figari come Gesù Piano Gesù Piano Gesù Piano Gesù Piano Gesù Piano Gesù Piano e gli ascolti sono le campagne, il territorio diRock i Vieterio e di chiara, e meno che la città a essere più igliata, dal fatto che il territorio di un'azionata da un'azionata, che il territorio di Gesù Cristo era più grande e molto approfittabile per farlo. Se città i Vieterio, vediamoci a un'azionata da Gesù Cristo, come la tua cultura in cui parlano. Il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Diori, no? Se non ha già accionato, ma confusa Gesù, la sua 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 cara, non un po' una persona che vive alla per Anna, e non lui ha già Againzina, in modo che lui non ha già avuto, ha già avuto la mia vita, ha avuto un' sua mani, perché non mi non lo so, Gesù Cristo, non lo so,